Affidata a Teramo per una somma complessiva di 7 milioni e 300 mila euro, la progettazione per la riqualificazione del vecchio stadio comunale. L'assessore ai lavori pubblici, Giovanni Cavallari, è pienamente soddisfatto al pari dell'amministrazione d'Alberto. La riqualificazione era uno dei punti del nostro programma elettorale che avevamo annunciato alla città. Finalmente è stata indetta una gara per il reperimento della società di progettazione che è stata individuata. Adesso iniziano ad avere proprie attività di progettazione su indicazione dell'amministrazione comunale e su quello che ovviamente avremo come facciamo normalmente una condivisione con il territorio, con i nostri concittadini. 5 mila euro con 5 milioni e più di lavori che non sono tantissimi ma che nello stesso tempo ci consentiranno di poter restituire alla nostra città un campo sia utilizzabile per il calcio che per il rugby, così come avevamo annunciato. Sotto l'aspetto delle tempistiche, Assessore, possiamo dare già dei termini ufficiali? Le tempistiche sono legate a dei fattori che qualche volta non possiamo considerare. Il tempo è veloce perché ovviamente il finanziamento ci porta ad accelerare i tempi ma nello stesso tempo non possiamo che non procedere con estrema calma anche perché quell'importante impianto sportivo che si trova al centro della nostra città rappresenta la storia della nostra città e ovviamente qualsiasi scelta dovrà essere condivisa con i nostri concittadini nella consapevolezza che ovviamente un impianto sportivo al centro di una città oggi potrebbe rappresentare un problema ma nello stesso tempo una riqualificazione è una cosa ancora più importante. Ci sono degli aspetti positivi nell'idea che è stata presentata da questo studio di progettazione. vogliamo verificarlo, vogliamo innanzitutto iniziare a dialogare con loro per vedere qual è la scelta che dovremmo poi proporre ai nostri concittadini.